La Giunta regionale ha approvato il finanziamento degli interventi straordinari per i danni avvenuti a Licata nei giorni scorsi a causa di un violento nobifraggio e per consentire una serie di interventi strutturali necessari al ripristino del territorio per un totale di 30 milioni di euro, come già annunciato nei giorni scorsi dal Presidente Rosario Crocetta. I 30 milioni stanziati sono fondamentali per una risposta concreta alla città. Plaudo all'intervento di Crocetta che nell'odierna seduta di Giunta ha approvato il finanziamento di 30 milioni di euro per gli interventi straordinari a favore di Licata dopo i danni causati dal nobifraggio di questi giorni, commenta il deputato agrigentino Vincenzo Fontana, il quale continua soffermandosi sul possibile emendamento governativo finalizzato a implementare il capitolo dedicato alla manovra di assestamento già in discussione in aula. Licata è una città martoriata dal ciclone prima e dal nubifraggio ora, per questo, afferma Fontana, bisogna dare vita ad un forte provvedimento che faccia fronte a danni ingenti. E bisogna far presto, aggiunge il componente nuovo centrodestra Lars, perché le previsioni meteo per le prossime settimane non sono incoraggianti. La città è in ginocchio e il Governo regionale deve dimostrare la propria vicinanza con un provvedimento tanto forte nella sostanza quanto celere nella sua messa in atto. Sulla dichiarazione dello stato di calamità per Licata interviene anche il vice segretario provinciale di Sicilia Futura, Nuccia Palermo. Finalmente la prima risposta concreta, con ben 30 milioni di euro per i licatesi colpiti dalla pioggia eccezionale di sabato scorso. Siamo contenti di poter registrare un intervento cospicuo, ma soprattutto celere rispetto alla calamità che si è abbattuta sul vicino comune licatese. Siamo orgogliosi che il gruppo parlamentare in toto di Sicilia Futura abbia contribuito fortemente al buon esito dell'intera vicenda, commenta il vice segretario provinciale. E siamo certi che gli stessi vigileranno e seguiranno tutti gli step burocratici affinché il territorio licatese possa respirare nuovamente un clima sereno. Licata è un comune che vive soprattutto di imprenditori agricoli, che genera una filiera produttiva in campo ortofrutticolo di eccellenza, insiste ancora Nuccia Palermo. E non ci si poteva permettere di abbandonarli a loro stessi. Questo è il primo segnale, ovviamente, ma un primo segnale forte. Non di minore importanza è stata la scelta anche di ripartire il fondo di indennizzo per gli imprenditori agricoli, dando 1,15 milioni di euro agli imprenditori agricoli licatesi che nel 2015 avevano già subito alluvioni. Io stessa, da dirigente provinciale di Sicilia Futura, conclude il vice segretario Mire Caruallicata per constatare la reale situazione per mettere a disposizione della cittadinanza l'impegno dell'intera segreteria provinciale del partito.